e che sentire che sia stata lei donare il terreno della partecipanza. La tredica nostra era una commessa, una marchetta e una conchessa, un ambiente di fronte d'aglio e sui uffici dell'Europato, una roba per il mio signore. Donare il suo primo piano, come abbiamo con voi, non abbiamo considerato il piano inferiore, arrivato in alto di territori italici a matti di stare nella chiesa. Nella mia stagione è il primo stesso di un ospeditoio che comprendeva la prima via, l'emiglia, la Romagna e la Toscana. Un'antica tradizione contribuisce a dire di istituzione di partecipanze alla scelta del quattro amato di Canos, anche la signora, i basti fevi, le luna e l'altra quattro amato di Trapennini. Non vi sono troppo delle commentarie, dalle donazioni. Il probabile è che le partecipanze siano amate dalla bar di Mantua e la resta di noi, il risultato di voi. Grazie. 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 Grazie a tutti.